Vediamo fin dove ancora una volta possono riuscire a spingersi queste persone. Io sono costretta a comunicarlo antecedentemente del mio diritto di registrazione per la mia tutela. I signori non lo comunicano e sono già corredati di registratore sia audio che video sulle loro giacche. Il film è finito? Non voglio crederci, ma davvero stiamo scherzando? No, non è possibile. Davvero? Voglio credere in una spedizione notturna, vi prego. C'è una spedizione notturna perché non è possibile. Io vi voglio far vedere. Ci sarà una spedizione notturna probabilmente perché il film in questo momento si è concluso. Cioè signori guardate, il film si è concluso, i signori sono andati dentro e loro stanno andando via. Si è concluso il film? Ci aggiorneremo sicuramente per una spedizione notturna perché con passamontagna probabilmente perché non ci voglio credere che sia finito il film. No, no ragazzi, il film è finito. Dai ragazzi, salutiamo tutti, venite qua. Venite qui. Diciamogli che ci vediamo stasera sicuramente per... Grazie. Dai, tutti, tutti, tutti. Tutti, tutti. Abbiamo pagato il straordinario. Mi hanno fotografato la targa, Vale. Quindi ce l'avevo la targa, hai visto? Se le hanno fatto la porra. In qualunque film ci sono gli effetti speciali e anche questa volta noi li abbiamo avuti tutti. Questi sono i sottotitoli? Non credo proprio. Questo è soltanto l'inizio. Polizia Municipale, territorio del caso, siamo pronti a tutto. Guardateci un po'. Questa volta non ci fermiamo. Alla prossima! Ciao! E chiudi l'intervento perché sono andati via. Quindi al 112 anche chi ci ha messo la faccia e ha fatto segnalazione, chiuda la segnalazione, quindi richiamate, chiudete la segnalazione al 112 perché le persone armate sono andate via. In questo momento le persone apolidi non sono più accerchiate e in stato di pericolo. Grazie a tutti! Ci vediamo dopo. Ma ho appena andato via. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!